Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vai su, una maniglia, prematore, vai veloce, 4, 3, 2, 1, su, 2, 3, 4, forza 8 ancora 4, 3, 2, 1, cambio 5, 6, 7, via, giù 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E 1, stop Ok, andiamo ad elevare sulla gamba Adesso tengo la gamba su per 16 contenci 4, 3, 2, stai fermo Su, 2, stai fermo 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, su il tallone 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio gamba 5, 6, 7, via, ora 8, 7, 6, 5, 4, 3, bravissimi 2, 2, 1 1, stop 3, 2, 1, pressione 1, 2, tengo le braccia aperte E poi lenggo Ok Ready? 3, 2, 1, stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, scendi piano. 1, 2, 3, su, 2, su, 3, su, 4, 5, 6, 7, 8, ok stop. Missione compiuta! 5! Percebate! For this heart I see, I see it in you. 6! 7! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Grazie a tutti.